5 persone sono state arrestate dalla polizia postale di Firenze per retenzione di immagini videopedopornografici mentre altre 30 sono indagate. L'indagine coordinata dalla procura fiorentina avrebbe portato alla scoperta di oltre 10.000 videopedopornografici scaricati da 44 soggetti italiani e da altri 120 europei statunitensi e dell'America Latina, ritraenti soggetti minori anche sotto i 10 anni. Gli arresti sono stati eseguiti ad Arezzo, Roma, Firenze, Brescia e Venezia. Le persone coinvolte sono di tutti i ceti sociali tra i 30 e i 50 anni in maggioranza anche se ci sono 4 pensionati. Le perquisizioni sono state effettuate in Toscana, Lombardia, Veneto, Trentino, Alto Adige, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Puglia e Sicilia. L'inchiesta è partita da una denuncia nel 2015 di un cittadino livornese che scaricando musica tramite un programma di file sharing si era ritrovato sul computer un videopedopornografico. L'Apple Post ha poi spiegato il questore di Firenze e grazie alla legislazione vigente ha potuto utilizzando falsi profili portare avanti l'inchiesta anche sotto copertura.